Il Centro per l'Impiego e il Comune di Sciacca incontrano le imprese nell'Italian Employers Day 2019, seminario formativo sui nuovi incentivi per il lavoro e le assunzioni che si svolgerà domani mattina in Sala Blasco a partire dalle 10.30. Una giornata organizzata dal Centro per l'Impiego di Sciacca in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche Sociali e il supporto dell'AMPAL, Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, che hanno accolto l'invito del Ministero ad aderire all'iniziativa comunitaria della Rete Europea dei Servizi Pubblici per l'Impiego. Saranno illustrati in particolare i nuovi servizi per il lavoro, i servizi offerti dal sistema pubblico, i progetti EURES, i tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone, alla riabilitazione, le principali novità introdotte in materia di reddito di cittadinanza e altri incentivi per le assunzioni. Ci sarà un incontro organizzato dal Comune di Sciacca, dal Centro Territoriale per l'Impiego e dall'AMPAL, rivolto alle aziende del territorio che siano interessate a offrire l'opportunità di un tirocino formativo ai tanti, alle famiglie e agli utenti che usufruiscono del reddito di cittadinanza una volta a rei. Il Comune di Sciacca ha avuto approvato il PON Inclusione, che è un'azione importante che combatte la povertà economica e anche educativo-sociale e questa azione, insieme al reddito di cittadinanza, passa attraverso dei tirocini formativi, delle attività di pubblica utilità che devono essere svolti da chi usufruisce di questi benefici. Pertanto in Sala Blasco venerdì ci sarà un incontro rivolto al territorio, alle aziende, che volessero dare un'opportunità ai fruitori di questi benefici. Il Comune confide in una massiccia partecipazione di imprese e aziende del territorio al seminario di domani. Un invito e un appello alle aziende del territorio a partecipare, a darci una mano per un progetto importante di inclusione sociale ed economica. Grazie a tutti.